Ciao a tutti, domani finalmente inizia il raduno al Guinness X Nation 2021 sarà sicuramente un'edizione speciale, senza pubblico sugli spalti, pronte a sostenerci ma sicuramente sentiremo la vostra vicinanza e il vostro affetto anche da casa per cui domani non mancate alla conferenza del lancio delle 6 nazioni alle 12 e al talk show con me e il ct Franco Smith alle ore 18 sui canali social della FIRA Ciao 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 Ciao